ciao amici ho preso dagli stockisti il nuovo nokia lumia 1020 e andremo a controllare se è tutto come il telefono come imballato abbastanza avvolto non so se si nota la confezione insomma questo qua è l'imballaggio con i classiche cosettine vediamo fuori questo qua ecco il seguici di qua se scarica l'app per android o già l'android non me ne faccio un cazzo allora eccolo qua controlliamo che si muova il game mi viene un po' un dubbio allora eccoci qua non so se si vede abbastanza bene comunque allora nokia lumia 1020 sembrerebbe scillato si spera almeno sono i vari cosi importante per fortuna che è come avevano detto garanzia italia 24 mesi presso quello che è insomma le varie motion hd e tutte le varie informazioni questa è la confezione del nokia lumia 1020 esterna se andiamo a estrarre vediamo il contenuto diciamo del di questo telefono allora che presumo sia un cassettino penso non lo so ma qui è chiusa spesi di scotch che fa diciamo cassettino vediamo un po' com'è no mettiamo qua ok allora abbiamo il nokia lumia che ha ancora la sua plastichetta non so se non si riesce a notare comunque qua c'è la loro ancora con i suoi con gli originali abbiamo non so se si riesce a vedere ecco abbiamo la solita spillina per estrarre la sim caraglio sim abbiamo abbiamo un po' di pezzettino su di informazione abbiamo una specie di confezionina che tiene quello che presumo sia di istruzioni solite cose di garanzia e così via non so se si è vista no? si si è vista più o meno allora poi abbiamo il contenuto finale che eccolo qui abbiamo le cuffiette in air chiaramente intonate con il colore della scocca ancora abbiamo il caricabatterie per l'Italia e abbiamo il cavo che serve sia per alimentare chiaramente come tanti altri telefoni suonificati ok allora grazie a tutti andiamo avanti a portare questo è tutto adesso andrò un po' a testarlo e vi farò vedere questo è tutto l'unboxing è finito e nei prossimi video